Saranno annunciati il 31 marzo a Milano i nomi dei vincitori del premio letterario Bottari Lattes Grinzane, nato dalle ceneri del Grinzane Cavour, travolto dallo scandalo del suo patron. Il premio è suddiviso in due sezioni, il germoglio destinata alla scoperta di opere di narrativa originali di scrittori italiani e stranieri pubblicate nell'ultimo anno. La Quercia, dedicata a Mario Lattes, pittore, scrittore, editore, scomparso nel 2001, che segnala l'opera di un autore affermato che nel corso del tempo si sia dimostrata meritevole di un condiviso apprezzamento critico. Il Bottari Lattes Grinzane si rifà il passato, ma continua a guardare al futuro. La continuità con il passato io credo sia una continuità morale, per questo ho detto che lo prendo direttamente, idealmente, dalle mani di Domme 8. Cioè la trasparenza, l'onestà, difatti dice il nostro cartellone che la buona letteratura è sempre onesta. Ecco, noi, mi auguro che tutti noi riusciremo ad essere sempre onesti, certo coraggiosi lo siamo, saremo anche onesti. I protagonisti e i meccanismi del riconoscimento saranno illustrati sabato 10 marzo alle 17, nel castello di Grinzane Cavour. Nell'occasione Caterina Bottari Lattes, presidente della fondazione Bottari Lattes, riceverà il premio Galletto d'Oro, riconoscimento istituito dal comune di Grinzane Cavour e giunto alla sua undicesima edizione.